Assolutamente, Jacopo sarà prontissimo, qualora ci fossero delle novità, ad aggiornarci e aggiornarvi. Nel frattempo però noi andiamo in pubblicità, due minuti lì nella regia. Rimanete con noi perché sono tantissimi i nostri temi caldi di questa sera, tra poco. Come recita il nostro titolo tra sogni fake e realtà, questa sera iniziamo proprio da una realtà che è un po' scotta, nel senso che vediamo un giovane fumare in un locale comunque dove c'è assembramento di persone. Guarda, io dico questo, poi voglio andare da Marco su. Io mi devo fermare un attimo prima di... Diciamo che sia necessario... È una mazzata importante, quindi non la vivo. Ti vedo che dallo sguardo mi fai segno come se... Per due minuti, ma attenzione, dopo la pubblicità parliamo di quello che è il sogno dell'Inter. Ci ricolleghiamo con Barcellona, ci ricolleghiamo. È pazzesca di Mesti, cerchiamo di spiegarvi di più. Ma la domanda è, è un sogno, una flexibilità che ci sono. Tutto, ma proprio tutto dopo la pubblicità, tra poco. Vi abbiamo annunciato che vi avremmo svelato qualche arcano che riguarda la questione Mesti a Milano e quindi a tal proposito andiamo subito alla nostra postazione in redazione affinché Jacopo ci racconti un po' di che cosa si stia parlando qui a Sette Gold. Una cosa, eccola qui, no? Allora, una fantasia, un sogno, una cosa impossibile. Bella, però. E c'è chi ha subito detto che era un'utopia, che era utopico, che non era possibile. C'è chi ha detto, eh ma insomma è andata sulla... Una cosa singolare, che... È un atteggiamento possibile. Allora, ci fai capire qualcosa? In tutti e due i casi fu negata di Sanchez. Andiamo avanti. Assolutamente sì. Perché ci sono altre notizie che dobbiamo dare riguardo. Non è chiusa, andremo a indagare le cause e capiremo se veramente si sta parlando di fantacalcio, di Messi all'Inter o meno. Tutto questo dopo la pubblicità. Rimanete con noi per scoprire se Messi arriverà in Italia, sì o no. Inter tra sogni e realtà. Chissà se prossimamente dovremo portare un defibrillatore al nostro Luca Mastrano. Ciao Luca Vigliotti, che è un profeta. Lo sappiamo qui al profeta più volte. Cosa mi dici nella palla di cristallo? Arriva, non arriva? No. Ci devi pronunciare. Ricorderai che qualche settimana fa, ricorderai, ricorderai... Il Paris Saint Germain, metteessi tantissimi. Quindi questa è un'operazione che ha un valore. Per loro potrebbe avere un valore. Per Barotta potrebbe essere un rilascio. Ma dopo perché a proposito di scommesse, abbiamo tante scommesse in atto questa sera che riguardano anche la Juve. Ma per scoprire di cosa stiamo parlando, dovete rimanere con noi qui a Settegola. Tra poco pubblicità. La vendetta è un piatto che va servito freddo, ma sarà proprio questa la vendetta di Marotta? Oltretutto, facevamo una considerazione nel fuori onda. Che nessuna squadra ha fatto ricorso a questa mossa dell'Inter. Sì, spieghiamola bene. Spieghiamola bene. E incontro l'Inter per aver usato... Più si vociferano anche già i papabili nobi sostituibili a Sarri. Vi dico inzaghi, Pirlo e Spalletti. Capiamo se c'è qualche verità fondata o meno, ma tra poco pubblicità. E da ieri che circola questa notizia, non si parla più di nient'altro, Sarri dovrebbe abbandonare la squadra bianco e nera, Maurizio. Beh, più che voluti. Una coppa da giocare ancora. Stigando. Io lo sto... Tantissimo di cui parlare, due minuti di break. Attenzione però, messaggio importante da parte del Ministero dell'Ambiente, della tutela del territorio e del mare. Ciao. Stiamo parlando di Sarri, però attenzione all'inizio di puntata vi abbiamo promesso che la nostra postazione di redazione sarebbe stata prontissima, super attenta su qualunque aggiornamento e quindi, Jacopo, sembra quasi che ci abbiano sentito parlare di Messi. Perché sto dicendo così? Ma chi ci ha sentito parlare di Messi? Possiamo riandare da Jacopo? Sì, perché, Jacopo, abbiamo tante clip questa sera, la prima vede il protagonista appunto l'allenatore della Juve, che cosa dichiara? Parla... Mi sembrava un Sarri molto tranquo che facesse toccare da quello che è successo, ma mi pare anche abbastanza... Adesso immaginati che sulla mole antonelliana domani... Che ride Maurizio, che lancia sfide, andiamo in pubblicità, ma attenzione, rimanete con noi perché dobbiamo ancora parlare di Sarri, abbiamo tante altre dichiarazioni piuttosto interessanti in merito. Ve le svegliamo ma tra due minuti. Lina alla regia, pubblicità. Stiamo di nuovo insieme, Sarri si è pronunciato su più di un giocatore, per lui è fondamentale chi, Jacopo? Perché Di Bala era stato messo in vendita all'inizio dell'anno e forse è stato gioco... E' difficilissimo, eh? Scusa secca, noi ci fermiamo per qualche istante, attenzione, parlavamo di gioielli della Juve, beh, CR7 sembra che sia stato un po' sottotono contro il Cagliari, ne parliamo tra poco pubblicità. Abbiamo sostenuto che CR7 abbia giocato sottotono l'ultima partita, però Mr Sarri comunque si giustifica e dice che ogni volta prima di andare a schierare un giocatore sente sia il giocatore stesso sia il parere medico. Jacopo, è vera questa cosa? Il giocatore stesso è bello di giocare, ha giocato quella partita... Si era concesso, Massimo si era concesso, gesticolava Viglietti ma non abbiamo capito perché, non sei d'accordo Gianluca? No, c'erano... Sì, visto che noi abbiamo lanciato... Ci rispondono dopo, ormai l'abbiamo lanciato. Esatto, noi abbiamo lanciato il nostro referendum, i nostri ospiti hanno qualche minuto per pensare alla risposta, la scopriamo ma tra due minuti, rimanete con noi. Ci siamo lasciati congelando il referendum che ha lanciato Maurizio Biscardi, per ora ha risposto solo un nostro ospite e dobbiamo sentire ancora tutte le risposte, quindi ripartiamo da Gianluca Vigliotti, Gianluca da chi ti schieri tu, da quale delle due parti? C'è il rispetto Messi? Messi. Marco, tu invece con sua età era ancora uno della squadra di Messi, cioè nel senso persone ancora, una glielo chiedo subito... Minutare intuoso, ma ha detto che non l'abbia detto, è venuto in mente se mi stavano parlando lui. Se me per Ronaldo avendo girato... ...mi aggrego un po' all'opinione comune nostra in studio perché motivandola con questa risposta vale a dire che secondo me CR7 ha più costanza nell'allenamento, ha più tenacia, ha più grinta, è sempre sul pezzo, posta sempre l'allenamento, proprio la testa secondo me è un fattore che fa tanto al di là poi del dono divino che tu puoi sapere, anche se io so che il giocatore preferito di Vittoria è un altro. Ve lo svegliamo ma tra due minuti, pubblicità tra poco. E stiamo di nuovo insieme, si stava parlando di quanto fosse più performante a livello sia tecnico che tattico, il calciatore CR7 o Messi, credo che qui a 7 gol l'abbiamo stilato un decreto, vale a dire per ora CR7 è la meglio Maurizio. Per ora di poco, di pochissima, o come diceva, dicierazione delle 23-18, Luca se portavi Vittoria allo stadio, abbiamo fatto una storia, con queste chicche noi ci salutiamo un attimo così riprendiamo anche così un attimo in mano la situazione, sembriamo come gli scolli Lina alla regia ci penso io a bacchettare qua Maurizio perché a rientro parliamo di Inter che si gioca il tutto per tutto per il secondo posto e poi anche Milan con le dichiarazioni di Pioli, tutto questo ma tra due minuti. Perché noi abbiamo parlato di grandi giocatori? Sì, a tra poco. Apriamo un'altra parentesi, quella dell'Inter che ovviamente lotta per il secondo posto e abbiamo preparato, anzi la nostra redazione, una grafica che ci illustra un po' la situazione Jacopo Gioveni, vengo da te. In altri sporti funzionanti. Vigliotti con l'oppini, dai, come vigliotti con l'oppini. Chi arriva secondo è il primo dei perdenti, l'ha sempre avuto. No, dici. Perché siamo veramente come l'ultimo giornale di festa. In realtà vacanza, ma giusto per pochissimo. Però diciamo ai nostri spettatori, non è vacanza. Meno di una settimana ripartiamo, carichissimi, con il processo alle coppie, quando mercoledì 5 agosto, ma attenzione non è ancora finita la nostra puntata, ci fermiamo giusto per due minuti, lì nella regia rimanete con noi, dobbiamo ancora andare a scoprire e sentire e commentare insieme le parole di Mister Pioli. A tra poco. Attenzione, abbiamo delle notizie, sempre perché noi abbiamo iniziato la puntata dicendovi abbiamo la postazione di redazione capitanata da Jacopo Giovenni questa sera, prontissimo a darci tutte le nuove. A tal proposito c'è una news su De Laurentiis. ...che poi dopo è normale che ci si fa un dibattito da ascoltare. Assolutamente, caro Alessi, preparati perché adesso come cita il nostro titolo in alto andiamo ad ascoltare Pioli che dice siamo un grande gruppo, puntiamo al massimo. Tra due minuti andiamo ad ascoltare le sue parole, rimanete con noi. Quindi siamo un grande gruppo, ma che cosa c'è nella testa di Pioli? Qual è il progetto intorno a Ibra? Ce lo racconta Jacopo Giovenni. Allora, stava... Maurizio, guarda cosa c'è scritto...